Scusa, non era qui E invece si, testa di minchia Guarda, ti metti un'altra spinta, affanculo E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale Quarta missione del nostro Luis Lopez CTA4 de Baladov, gay Tony Siamo con sua madre questa volta Adriana Yanira Lopez E la missione sarà Mommas Boy Vi chiedo subito di lasciare like al video e iscrivervi al canale Nella missione scorsa siamo stati in un ristorante cinese, un magazzino o quello che era E abbiamo fatto fuori un pochino di persone Nel uscire da questo ristorante, un magazzino o quello che era Noi possiamo tranquillamente, grazie alla nostra regia Curata da me stesso, passare a GTA Ci eravamo lasciati qui proprio per andare a fare la missione per sua madre Mommas Boy Sto qua promette male, eh? Hey bro, be polite when you talk about my mother, man You should've read the small print You should not judge me, Luis Lopez Yes? You're just like your father Lo dicono sempre, lo dicono sempre, non mi preoccupare Ah, è vero, c'è la lotta in gabbia Scusate, dovevo Non regisce Non regisce Allora, c'è praticamente una doppia chance su questa missione Praticamente da quel che so Se arrivi in fondo fallirla è impossibile Praticamente tu puoi perdere E tipo da quel che so E tipo da quel che ricordo La madre è più contenta se perde Piuttosto che se vince o continua a spingerlo così Da quel che mi va È una doppia scelta Scusa, non era qui E invece si testa di minchia Guarda, ti metti Un'altra spinta Fanculo Ehm Però io sono uno che se la gioca fino alla fine Quindi voglio vincere Mi prega un cazzo delle circostanze No Oddio Ho spinto la persona sbagliata Corpo a corpo senza armi Te Gli altri poi a un certo punto piano il cortello Giustamente You fucking let me go The hearts are good Place your mates Place your mates Place your mates Place your mates No, non place nulla io Si macchiacca Ma è XXL di Oh merda XXL di avanti un altro Però combatte un pochino meglio secondo me Oh Ascolta, fammi fare una cosa Sono qua Manca lui Dai Oh, fuori uno Certo, avessi fatto il pieno di vita Prima di questi combattimenti Non era male Vabbè, ma siamo passati da Vite al limite A un istruttore di palestra Vieni Vieni qua Di più attestate Vieni Vieni Oh Ma che cazzo Va Fanculo, vai Ok, quindi Sostanzialmente Il terzo Può anche Battermi Aspetta che la tua salute Si è dimezzata Poi buttati Quindi aspetta Ok, ok Ma come la devo rigiocare Fra Ma se mi batto e perdo No, così non va bene Cioè La volta che ci stavo anche a morire Ok, siamo al terzo Dai Mezza sega a me Pussi 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 A chi Che testate Che ti becchi Vada lì Vada lì Vada lì Sono più motivato Sono più motivato Eh, però non devi Prendere a pugni La parete E prendere a pugni Sta testa di minchia Suka Vai Oh Non ho mai fatto Manco uno sgraffio Oh Suka Ah, anche lui Dai Meno male mi sei ripistinata la salute Suka Vaffanculo Oh Ho fatto più qua morendo Che le altre missioni Ok E tra l'altro posso anche giocare la missione E mi sono guadagnato il coltello Perfetto Ok Prossima missione Sempre No Prossima missione Sarà per Armando Torris No Sono uno che ti ha salvato il culo Perfetto Perfetto Taxi E andiamo a salvare Ma È qui l'appartamento Va bene Armando Perfetto E io voglio la missione Non voglio altri cazzi Quindi qua io vi saluto Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo per la missione numero 5 Che sarà Corner Kids Ancora un grazie Dato Alla prossima Un bacione Dato 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 Grazie.